Grazie a tutti. Per la precisione circa 19 anni, da quando dalla piccola stazione di Tivoli, prendevo quotidianamente un treno per andare a frequentare quelle lezioni di storia dell'arte nella facoltà di lettere e filosofia della Sapienza di Roma. In quel tragitto silenzioso, fatto per lo più alle prime luci del sole, quel che più mi colpiva era un enorme cancello, perennemente chiuso, di fronte al quale passavo e che attirava enormemente la mia curiosità. Al di là di quelle sbarre, sentivo infatti forte e accattivante la potenza della natura e di quei ruderi romani che intravedevo nel fitto della boscaia. Ogni volta mi domandavo perché mai quel cancello non venisse aperto. Sopra vi era un fatiscente cartello, Parco Villa Gregoriana, chiuso per restauri, a cui qualche cittadino aveva aggiunto il più veritiero chiuso per menefreghismo. Eppure quel nome tante volte lo avevo sentito riecheggiare proprio nelle mie lezioni di arte, dove il Tempio Circolare, detto di Vesta o di Sibilla, si era trovato spesso protagonista di indagini e speculazioni teoriche. Ebbene, nel 2001, con un gruppo di amici, tutti studenti di arte, archeologia, ingegneria dell'ambiente e del territorio, decidemmo di partecipare a un bando di concorso indetto dal comune di Tivoli, dal titolo Adotta un Monumento. Presentammo un nostro progetto, il cui titolo invece era Villa Gregoriana, riscoprire e proporre. Ci sembrava del tutto assurdo che un sito così bello, un attrattore culturale di questa città così imponente, fosse chiuso al pubblico e soprattutto all'estato delle cose, non fosse adeguatamente valorizzato. Per usare un enfemismo, perché quello che trovammo al di là di quel cancello, una volta passati alla seconda fase del nostro progetto, quella esplorativa, Ebbene, trovammo qualcosa che davvero non è facile da descrivere, davvero andava oltre ogni possibile immaginazione. Eppure, i mesi che avevamo passato a scartabellare da una biblioteca ad un archivio, per poter trovare materiale proprio per il nostro progetto, ci aveva svelato una storia unica ed affascinante. Il protagonista indiscusso di questa storia millenaria era ed è un fiume, il fiume appunto della mia città, la Niene. Cercate di immaginarlo arrivare con tutta la sua fuga ed il suo impeto, forte dei suoi 63 affluenti principali e 183 secondari affluenti, fin dentro l'antica Tibur. E solo qui dare sfoga tutta la sua ira, saltando in una gola fatta di tufo e calcare travertinoso, tagliando in due con il suo fragore il bosco sempre verde qui nascosto. Una natura incontaminata d'indomita quindi, accompagnata dall'aura magica del mistero e soprattutto del mito, quello della Sibilla Albunea, la signora che da secoli appunto in quella gola albergava, il tutto coronato dalla razza architettonica del genere romano, l'Arce Tiburtina appunto. E' facile capire il perché, da almeno 2000 anni, ci sia stato chi abbia messo a repentaglio la propria vita, calandosi proprio nel profondo di quella gola con delle corde, per seguire il fluire di questo fiume, che 82 metri più in basso rispetto al ciglio di caduta della Niene stesso, appunto andava infine ad inabbissarsi nelle viscere della terra, scomparendo in un ghiottitoio naturale. Il primo ad invaghirsi di questo scenario, unico, irripetibile, fu un oratore, amico dell'imperatore Domiziano, dal nome Malleo Vopisco, che qui decise addirittura di costruire la sua dimora a sbalzo sulle gole della Niene. Con lui il poeta Stazio, che nel terzo carme del suo scritto, Le Silve, ne decanta il fascino. Quale bellezza questa, di un angolo di mondo così fortunato, anche senza l'intervento dell'opera dell'arte. La natura, in nessuna parte, è stata mai più prodiga verso se stesso. Da qui in poi, non vi è stato viaggiatore, fin dai pellegrini dei Mirabilia Urbis, i taccuini appunto di coloro i quali giungevano a Roma, spostando poi la loro attenzione su Tivoli, passando per il movimento nel Grand Tour, tutti quegli artisti, poeti, letterati, che appunto hanno sfidato le acque della Niene e affrontato la discesa nella famosa Valle dell'Inferno, pur di immergersi in quest'atmosfera magica. Scrisse Goethe, nel suo viaggio in Italia, 1787. In questi giorni sono stato a Tivoli e ho ammirato uno degli spettacoli naturali più superbi. La cascata, con l'acqua e le rovine e con tutto l'insieme del paesaggio, sono cose la cui conoscenza ci arricchisce nel più profondo dell'anima. Ancora più strungato ed efficace è Lord Byron, con il suo Orribilmente Bella. Già, perché al fascino della gola non poteva disgiungersi il pericolo del fiume in piena. Nelle nostre ricerche di giovani studiosi scoprimmo infatti che la Niene tendeva a disondare con una certa cadenza, fino ad arrivare alla catastrofica alluvione e conseguente inondazione del novembre del 1826, dove l'ira del fiume spazzò via ben tre strade della città di Tivoli, uscì dal proprio letto ed assediò la città per sete. Conoscemmo così le gesta di Papa Gregorio XVI, da cui il nome di questo parco, il suo ardito progetto, quello portato avanti dall'architetto ed ingegnere idraulico Clemente Folchi, che riuscì a deviare e a canalizzare l'intero fiume Aniene, da cui la meravigliosa cascata artificiale con il suo salto di ben 120 metri, che ancora oggi incornicia il nostro parco. Seguimmo quindi l'ideazione del giardino all'inglese, o romantico, fatto di arbusti variegati e sempreverdi, con un sottobosco da mille colori capaci di celare le architetture e le ruine romane. Infine, scoprimmo cosa realmente fosse e significasse per Tivoli Parco Villa Gregoriana. Era il luogo d'origine della nostra città, la culla della nostra cultura locale. Con gli occhi pieni dunque delle immagini, lasciateci da Raffaello, Piranesi, William Turner, Ettore Rosler Franz, Claude Lorraine, giusto per citarvi alcuni autori, e con i sensi pronti a riscoprire gli incanti descritti da Goethe, varcammo proprio quel cancello, al di là del quale si percepiva invece allo scoccare del ventunesimo secolo un abbandono totale e conclamato. Il giardino giaceva sotto una moltitudine di rifiuti, pattume in ogni dove. Eravamo giovani studenti, pieni di sogni, e in realtà restammo davvero inermi di fronte a quella situazione. Non avevamo la capacità per rispondere a quella situazione. Non fosse che quando si parla di bellezza, c'è sempre qualcuno che ne sente il richiamo e si attiva. E la nostra risposta venne concretizzandosi in una minuta e gentile signora che però aveva negli occhi il fuoco. Giulia Maria Mozzoni Crespi. Questo è il suo nome, lei ad oggi è il presidente onorario del FAI, e nel 1975, insieme ad un gruppo di amici, decise che il suo sogno di bellezza doveva diventare realtà. E fondò quindi il FAI. Vennero a Tivoli, uno squadrone di luogotenenti, pronti a far battaglia. A noi in realtà sembrarono davvero dei supereroi, non saprei come descriverli altrimenti. Capitanati da quello che oggi è il nostro vicepresidente, Marco Magnifico. Con la sua attonante voce per ben due anni andò a bussare a tutte le porte di quegli enti che secondo lui dovevano intervenire, fare qualcosa appunto. Immaginatevi quindi comuni, sovrintendenze, dall'archeologico al paesaggistico, tutte quelle società che si occupavano di tutela, recupero, valorizzazione, infine banche. E quel che più fecero è mettere insieme un'equip di studiosi tra quanto di meglio ci fosse nel mondo accademico per progettare i lavori di recupero. Vennero addirittura ritrovati tutti i testi originali redatti proprio durante i lavori di Papa Gregorio XVI e quindi del suo parco romantico. Nel 2002 si riuscì a strappare al demanio la concessione per Parco Villa Gregoriana. Il FAI si assunse l'onore e soprattutto l'onere del restauro. Questi i lavori e i numeri dell'intervento. 350 tonnellate di rami e foglie, 5 tonnellate di rifiuti di ogni tipo, 1200 tonnellate di sassi e terra dovuti a smottamenti per incuria e il tutto rimosso dal letto del fiume e dalla valle senza l'uso di mezzi meccanici o di trasporto, a mano. Messa in sicurezza dei circa 2 km di camminamenti, messa a dimora di nuovi arbusti, recupero dell'antica biglietteria, restauro dei templi e trasformazione dell'ex edificio scuola accanto proprio ai templi abbandonato ormai da tempo in libreria e punto ristoro. 11 maggio 2005. Il cancello di Parco Villa Gregoriana finalmente si riapre al pubblico disvelando nuovamente le sue bellezze. Ma il lavoro e quindi questa storia non può finire qui, non può risolversi in questa data, 11 maggio 2005. Per far sì che l'impegno e la fatica di quanti hanno combattuto per riaprire quel cancello non vada infine vanificata, c'è bisogno, ci sia qualcuno che ogni giorno si spenda e racconti al mondo questa storia, cercando di declinare al futuro i verbi del passato, perché è solamente così che si può parlare di presente. Questo è il mio compito. Questo ogni giorno è il mio sogno che si trasforma in realtà. con la consapevolezza di non essere sola. Perché il FAI non è un'entità astratta. Il FAI è un insieme di persone. Ad oggi, all'incirca, siamo più di 100.000 iscritti, 100.000 italiani, che semplicemente condividono un sogno. E questo sogno, che è un disegno del cuore, si trasforma in idea, un disegno della mente. E di conseguenza in un agire, un fare. Fai qualcosa anche tu, è il nostro motto. Alcune di queste persone io ve le vorrei presentare. Sicuramente le vedrete scorrere alle mie spalle. Sono coloro i quali, con me, ogni giorno, quel cancello lo aprono alle ore 10. E permettono, appunto, a questo parco di parlare al futuro. Sono i nostri operatori di biglietteria, sono i nostri giardinieri, sono i nostri operatori didattici, che insegnano ai giovani l'educazione al bello. Sono i nostri volontari, senza i quali davvero saremmo persi alcuni giorni. Sono i nostri apprendistici ceroni, i giovani studenti del liceo classico Amedeo di Savoia di Tivoli, senza i quali le nostre giornate fai non sarebbero davvero le stesse. Sono tutti tiburtini che hanno trovato nella rinascita di questo parco motivo di vita e soprattutto lavoro. Ma sbagliereste nel pensare che questa storia sia solamente la nostra storia. Perché questa storia vi appartiene fin dalla nascita. Perché questa storia di bellezza è l'Italia, la nostra Italia, il bel paese. Soprattutto questa storia è quella che di più sta a cuore al fai e da circa 40 anni. Sicuramente questa storia sarà quella che racconterò alla bimba che porto in grembo. Sedute su di una panchina a rimirare i nostri templi, ascoltando il fruscio del vento tra gli alberi di Papa Gregorio, sul ruscellare del fiumaniene, le insegnerò a chiudere gli occhi e a sognare. Infine a riaprirli e a continuare a farlo. Vi aspetto quindi a Villa Gregoriana per farne insieme una questione di ambiente. Grazie e buon festival della letteratura a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.